Avevo tanta voglia di continuare a giocare in una grandissima squadra, giocare la competizione più bella al mondo che è la Champions League. La sierò il cuore per questa maglia e darò il meglio. Speriamo di fare tanti gol per avere contenti ai tifosi. Non vedo l'ora di essere in campo, poter aiutare la squadra, di fare gol. Mi ha convinto che è una società che sta lavorando benissimo negli ultimi anni. È un grandissimo allenatore che tutti conosciamo come Carlo. Non mi devo l'ora di lavorare per lui. Speriamo che possa migliorare tanto con lui e imparare tante cose. Alla fine, quando ti chiama un allenatore come Ancelotti, subito ti fa convincere. È veramente un grandissimo allenatore che ha allenato le migliori squadre al mondo e avevo tanta voglia di lavorare per lui. Io sono pronto per qualunque cosa. Adesso solo penso ad allenarmi, a dare il mio meglio e poi essere sempre a disposizione del mister Ancelotti che sicuramente farà il meglio per la squadra. Veramente sono felicissimo. Questi primi giorni sono stati alla grande. Non vedo l'ora di continuare ad allenarmi e cercare di essere in forma il più presto possibile. Prima dire che ho trovato un spogliatoio che è come una famiglia. I ragazzi sono magnifici e sono veramente contento di essere in questa squadra. Speriamo di aiutarli tanto. Penso che posso dare cose che non avevano prima. Dopo, con i tifosi, rispetto ai tifosi, dobbiamo convincere in campo. Dobbiamo dare il nostro meglio in campo. Così loro hanno la voglia di venire e godere insieme a noi in tutte le partite. Lo prima che ti rendi conto subito è il calore della gente. Veramente tutti mi stanno dando tanto affetto. È qualcosa di meraviglioso sentire questo. Speriamo adesso abbia l'opportunità di tornare questo affetto e dargelo in campo con tanti gol. Sì, veramente è stato così. Ti dico che è stato un amore perché sono incantato con la città, con i tifosi, con tutta la gente che mi mostra questo affetto. Veramente sono impressionato. Dobbiamo crederci. Io penso di sì. Quando li guardavo di fuori penso che hanno una squadra incredibile. Adesso che appena sono iniziato con loro è vero che adesso tanti giocatori sono fuori e ancora mi mancano di conoscere tanti. Ma penso che è una squadra di tantissima qualità. Bisogna solo credersi che si può fare. Bisogna credere, avere fiducia che ce la possiamo fare e non molare mai. Dobbiamo andare partita a partita, piano piano prendere fiducia, fare le cose bene, lavorare bene e poi non perdere mai la fede che alla fine del campionato possiamo essere lì e possiamo vincerla. Grazie.